Una nota sulla volta affrescata della chiesa del monastero delle Benedettine di San Michele. Aprire gli occhi. Di Don Orazio Placenti. La prima certezza è che l'apparato bibliografico, così meticolosamente richiesto dalle studiosi e dagli studiosi di storia dell'arte, può essere fonte di una genealogia di sbagli. Bisogna aprire gli occhi. La genealogia di errori circa la volta affrescata della chiesa del monastero delle Benedettine di San Michele di, Mazzara del Vallo ha almeno 124 anni. Pietro Safina, la fonte erronea più antica finora reperita, scrivendo La Mazzara Sacra, edita nel 1900 a Palermo, scuola tipografica al boccone del povero. Circa il tema della volta scrive a pagina 33. Il quadro della strage degli innocenti e l'altro del trionfo di San Michele sopra Lucifero, pitture del rinomato, famoso artista Francesco Sciacca di Mazzara. Filippo Napoli, nel suo Storia della città di Mazzara, edito nel 1932, scrive, peraltro senza note al luogo, a pagina 189. Affrescò anche la grande volta del Tempio con un folto e ben proporzionato gruppo di figure, rappresentante il trionfo di San Michele su Lucifero. Giovan Battista Ferrigno nel suo saggio pubblicato a puntate sul vomere di Marsala domenica 14 settembre, 1930, pagina 2, domenica 21 settembre 1930, pagina 2, domenica 28 settembre 1930, pagina 2. Questa impressione ci ha portato alla convinzione che sono opera dello Sciacca non solo i tre quadri d'altare, la strage degli innocenti, e in la Sacra Famiglia, ma pure nella stessa chiesa, il grande affresco della volta, rappresentante il trionfo di San Michele sopra. Lucifero. 21 settembre 1930. Nel loro monumentale al Gemäns Lexicon der Bildenden Kunstler von der Antike bis zur Gegenwoord, 30, Leipzig, Verlag von Siman, 1936, a pagina 393, alla voce Sciacca Tommaso, scrivono, Mazzara del Vallo, Chiesa di San Michele, Mittelschiff, Dockenfresco, Triumph de Seiliges Michael Ubersatan, 1767. In bibliografia è citato Filippo Napoli, che deve essere ritenuto la fonte dell'errore. De Felice in Arte del Trapanese, Pitture e Arti Minori, edito da Industrie riunite editoriali siciliane, Palermo, 1936, a pagina 105, scrive. Nel 1766 venne a Mazzara, dove affrescò la volta della chiesa di S. Michele, il trionfo di San Michele sopra Lucifero Alberto Rizzo Marino nel suo libro, prima pubblicato tra il 1960 e il 1961, in capitoli, su Trapani Nostra, mensile della provincia di Trapani, e poi pubblicato in libro, Rizzo Marino Pisciotta e il monastero normanno di San Michele. Arcangelo 900 anni di storia, Mazzara, Istituto per la Storia della Chiesa Mazzarese, 2004, scrive a pagina 79 del libro appena citato, Nella grandiosa volta il trionfo di San Michele sopra Lucifero Giuseppe Basile, nel suo saggio monografico, pubblicato nel 1968, un pittore siciliano del Settecento, Tommaso Mario Sciacca, in commentari anno diciannovesimo, nuova serie gennaio, giugno 1968 fascicolo primo e secondo, pagine 137-149, parlando della cupola di San Francesco Saverio a Palermo, scrive, l'illusivo completamento del corpo dell'idolatria in stucco colorato, che sarà ripetuto di lì a poco nella figura di Lucifero o della gloria di San Michele, a Mazzara del Vallo. Pagina 139, eppur intitolando la fresco, La gloria dell'arcangelo Michele e pagina 139, identificano correttamente la figura che fuoriesce dalla cornice, dell'illusiva terminazione in stucco dipinto della figura di Lucifero o Pagina 142 Lorena Sferlazzo, nella tesi di Laurea, opera monografica in seguito edita dall'Accademia Selinuntina, conferma la trasmissione di quanto appreso dagli altri autori, vi è raffigurato il trionfo di San Michele sopra Lucifero o pagina 68, e ancora. Citando il saggio di Basile, colpisce la figura dinamica e contorta di Lucifero, che precipitando e fuoriuscendo dalla illusiva cornice in stucco dipinto. Pagina 69 La nota cita d'Andrea, 1767, Rizzo Marino, 1960, Basile, 1968. Uno sguardo attento alla figura che fuoriesce dalla cornice in stucco, finora identificata con Lucifero, grazie anche alla possibilità di una nitida lettura, grazie alle foto di Damiano Asaro, che qui ringrazio per aver voluto condividere il suo lavoro, mi ha permesso di giungere ad una diversa conclusione. Non si tratta di Lucifero ma dell'eresia. La figura corrisponde alla definizione presente nell'iconografia del Ripa. Alla voce, una vecchia estenuata di spaventevole aspetto, getterà per la bocca fiamma affumicata, averà i crini disordinatamente sparsi e tirti, il petto scoperto, come quasi tutto il resto del corpo, le mammelle asciutte e assai pendenti, terrà con la sinistra mano un libro succhiuso, donde appariscono uscire fuori serpenti e con la destra mano mostri di spargere varie sorti. Ripa edizione del 1603. Per completezza si dà ragione anche della seconda figura femminile, dipinta accanto all'eresia. Si tratta dell'idolatria, come descritta dal Ripa, donna cieca, con le ginocchia in terra, et dia incenso con turibolo alla statua di un toro di bronzo. Descrizione Ripa 1611 nell'incisione dell'edizione del 1766, al posto del toro vi è una statua di divinità, come nella immagine della volta della chiesa di San Michele. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti